Martina Ferrara, un esordio che in molti ricorderanno qui a La Tisana, comunque una buona partita nonostante il risultato. Sì, diciamo è stata una bellissima partita, vedere il palazzetto di La Tisana pieno è stato meraviglioso, davvero bellissimo, quindi spero che il pubblico continui a seguirci così perché abbiamo veramente bisogno di loro. Stasera è stata una partita contro una squadra fortissima e secondo me noi in questo campionato possiamo dire la nostra, questa era una partita che ci serviva da stimolo e serviva per capire su cosa lavorare e su cosa magari andare a migliorare, quindi io sono contenta della prestazione e penso che possiamo dire la nostra.